In via Mezzavia, a Lacameno, preoccupa e non poco un muro pericolante presente a ridosso di alcune abitazioni. Tre anni fa ci furono le prime segnalazioni di pericolo. Inoltre, a seguito del terremoto del 21 agosto scorso, essendo ulteriormente aumentato il rischio di crolli, il tratto pericolante è stato transennato. Nei giorni scorsi, poi, a seguito delle forti piogge, dal vecchio muro si sono staccati dei grossi massi che hanno invaso la sede stradale e solo per caso non si sono avute conseguenze sulla pubblica incolumità. E siamo proprio a Mezzavia. Sulla mia sinistra, alle mie spalle, potete vedere il muro pericolante e, a terra, i grossi massi caduti nei giorni scorsi. L'instabilità del muro e la recente caduta di grossi massi avrebbero dovuto indurre l'amministrazione comunale di Lacameno guidata dal sindaco Giacomo Pascale ad intervenire immediatamente per far sì che il muro pericolante venisse messo in sicurezza. E invece, a tutt'oggi, nonostante le richieste dei cittadini, nulla si è mosso. Cosa si aspetta a farlo? Aspettiamo prima che ci scappi l'incidente. Aspettiamo prima che qualche grosso masso finisca sulla testa di qualche passante. L'augurio è che l'amministrazione comunale di Lacameno voglia finalmente far sì che questo muro venga messo in sicurezza affinché i cittadini, pedoni ed automobilisti che in tanti percorrono quotidianamente questa strada non corrino rischi. In via mezzavia, poi, a preoccupare c'è anche il pauroso dissesso stradale, con il selciato letteralmente sconquassato da buche enormi e profonde. Essendo la sede stradale di competenza dei comuni di Lacameno e di Forio, cosa aspettano il sindaco Pascale e del Deo a metterla in sicurezza facendola asfaltare? Anche in questo caso aspettiamo prima che ci scappi un grave incidente? Grazie a tutti.